Riccardo Valentini, primo stop stagionale per gli stani persi da Cano Alto, un peccato perché stavate giocando, buttando secondo dopo secondo contro i Tigers. D'altronde lo sapevamo che quando le battaglie sono di alto livello vengono decise dagli episodi, eravamo stati bravi a rimontare dal 3-1 al 3-3, dimostrandoci in partita fino a quel momento. Poi c'è stato l'episodio chiave della partita, un fallo involontario del nostro giocatore che ha causato ben 5 minuti di inferno numerica, ci siamo difesi con lunghi e con i denti ma poi la bravura degli avversari è riuscita a sfondare il nostro triangolo difensivo. Quando le partite sono molto equilibrate e di alto livello vengono decise dagli episodi e oggi gli episodi hanno girato a nostro sfavore. Il segnale positivo è il fatto di aver recuperato da 1-3 a 3-3, visto che la squadra comunque sia gira e ha dimostrato il suo valore. Sì, nonostante gli avversari avessero sicuramente il favore del pronostico, nonostante avessero molti più anni in media della nostra squadra che è giovanissima, i ragazzi sono stati bravi a non mollare mai dal primo all'ultimo secondo, abbiamo trovato tutto in campo, la prestazione è stata molto buona. Sono arrivati quei due gol con l'uomo in meno, amen, purtroppo capita, questa è una stagione di crescita, lo sapevamo. D'altronde partite così è meglio perdere le regolazioni che i play-off, che è l'obiettivo stagionale, arrivare ai play-off e poi giocarcela.